musica 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 ok, eccomi, eccomi ok, ho l'acqua calda, gli asciugamani puliti la coperta e sta arrivando Junior coi fagioli di Baltar ho provato a chiamare anche gli altri solo che non risponde nessuno perché hanno oh, si hanno dato il cielo torno fra un momento ecco qua, prendi guarda sei la mia salvezza maestro Junior ho guardato una volanga di video su Youtube e non ci ho capito niente devo dire che sono curioso di vedere coi miei occhi so che voi le uova non le fate ma quindi su cosa vi sedete per... e quello che cavolo è? quella è una vagina maestro Junior Don, si prepara ad attaccare, sta dietro di me è la testa di mio fratello super dente supremo io non posso farcela non ce la posso fare come è possibile che questa cosa ti spaventi hai dato la vita per me e lo riparai sei solo un codardo oddio sono qui mamma tranquilla ti prometto che... oh signore come fa ad avere tutti quei capelli e si può sapere come fanno ad essere già così a punta ehi ragazzi vi serve una mano? ero qui vicino e... ok grazie ciao potresti non cacciare chi vuole aiutarci e quando mai lo avrei fatto? God, Kiki ho sentito il vocale, congratulazioni oh dov'è il piccolo miracolo nooo cioè sta ancora oh cavolo e allora dov'è il secondo marmocchio di ca... oh spiterina ma cosa diavolo fa? perchè hai capelli così a punta? e perchè hai coperto di marmellata? quella è la placenta stupido non ti ricordi di quando io... aspetta è chiaro che non te lo ricordi perchè tu non c'eri eh perchè mi stavo allenando nello spazio oh mio dio sei un cattivo papà ed anche un pessimo compagno perchè non fanno che dirmelo tutti? adesso state zitti mamma comincio a vedere le spalle ci sei vicinissima dai spingi 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 e magari un po' meno forte ma tutti a terra oh il mio piccolo dolcissimo angioletto di natale gothel cavolo sembra... sembra papà in miniatura eh... vero sembra me in miniatura